tutti tutti cercano di addolcire la tristezza e il dolore pochi hanno capito che anche il gaudio va consolato la persona che gioisce che tocca l'acme della felicità che si è persa in lui deve ritrovare la strada della vita ma in quel momento in quel momento di grande abbandono nell'amore ci vuole qualcuno che ci accarezzi perché anche la dolcezza è una grande belva mansueta e un enorme unicorno che vola verso il cielo nell'amore grazie a tutti grazie a tutti